L'idea che il cinema era anche un lavoro non era presente. È capitato. Io che cosa volevo fare non ricordo, penso che volevo essere serena, come dicevamo prima. Più che quello che volevo fare, ho sempre preferito come voler essere. Poi quello che uno fa è sempre provvisorio. Quindi avevo un piano A, un piano B, un piano C e forse questo è il primo consiglio che posso dare. Avere sempre un piano B è molto importante per mantenere una libertà della mente, fare cose che piacciono prima di tutto a noi stessi. Credevo comunque di legarmi di più alla radio. Cioè al teatro, alla radio, delle cose che erano state nella mia vita. La radio c'era sempre stata perché era presente in casa tutto il tempo. E il teatro perché avevo frequentato dei corsi. Quindi quando ho chiamato Bruno perché veramente ha acceso una passione completamente sconosciuta. Il primo giorno che mi sono trovata qui, come voi adesso, ignoravo proprio l'esistenza di tutto questo mondo che poi mi ha travolto con grandi passioni. È difficile fare cinema? Diciamo difficile sia, credo che sia una parola positiva, no? Ecco, che forse ci sono un po' dei nessi automatici tra le parole che dobbiamo un po' smontare. Soprattutto, come è capitato tante volte, quando sei in America, allora tutti sono molto fissati con questa roba del difficile, no? Ma qual è la difficoltà più grande? Vogliono sempre che tu gli racconti come è stato difficile, quante difficoltà hai avuto, quanto hai lottato per fare quella cosa, quanto... come, diciamo, per esaltare il trionfo sulle difficoltà. È difficile, ma difficile penso che sia proporzionale al grado di gioia anche, nel senso che per fortuna è difficile, perché a volte se fosse facile già se ne fa troppo di cinema. Se fosse pure facile se ne farebbe troppissimo. Non ci basterebbe la vita per vedere tutto quello. E quindi per me è accaduto in una maniera molto particolare. È stato inizialmente una passione per il documentario, che è nata dentro alla scuola, perché dentro la scuola avevo incontrato un altro ragazzo che si occupava di questa roba dei documentari e mi aveva trascinato in delle riprese. Mi sono resa conto subito che non ero brava, cioè che non ero brava, che avevo un grande imbarazzo a filmare. Che probabilmente, insomma, per quanto mi piaceva il documentario, provavo un... proprio... faticavo a filmare gli altri, perché mi sembrava, come tuttora faccio fatica ad essere filmata, cioè mi sembrava di essere violenta in qualche modo. E quindi, alla fine, la finzione è stato un po' un rifugio, cioè, come dire, forse se chiedo il permesso è meno difficile. E poi, anche perché forse se... mi piace molto poter dare la libertà agli altri e sicuramente uno è più libero fingendo di essere un altro che stando dentro la propria vita. Quando tu filmi una persona nella sua vita, chiaramente questa persona è un po' imbalsamata, perché deve dare un'immagine della propria vita. mentre lavorare, chiedere a una persona di interpretarne un'altra è comunque toccare una libertà incredibile. Devo dire... Sta andando bene. No, ti chiedo ancora una cosa, poi tu mostri le tue cose. Tu hai fatto un film sulla Calabria, un altro su Toscana-Umbria, da quelle parti lì, più o meno. sempre Campania. Il prossimo a Bergamo. Ah. Un film su di te? No, che volevi dire rispetto a questo? No, voglio dire, perché ti senti bene lì? Un'altra aggiunta è che ci sono sempre bambini, bambini a profusione. Vabbè, diciamo che è tutto partito sempre dal sud, nel senso Garibaldi ha risalito l'Italia, l'esercito americano ha risalito l'Italia, quindi ho pensato di copiare, di fare la stessa cosa. E Bergamo è la città dei mille? Quindi piano piano risalirò, poi però ho paura di prendere la tisi a un certo punto verso la pianura padana. Però, comunque, ci sono, vabbè, ci sono bambini, ci sono anche delle coincidenze. Adesso non voglio dire che sia proprio una perversione, ecco. Però, mi piace molto lavorare, sicuramente lavorare con i bambini, è stato sempre bambini, poi ragazzi, più che bambini. E' stato un grande aiuto perché lavorare con un gruppo misto in genere è un grande aiuto, e forse è anche la forza poi della scuola, perché in genere lavorare solo con attori o solo con persone troppo specializzate in una cosa chiude tutto un altro mondo che invece nel momento in cui due esperienze diverse si confrontano cresce, no? C'è crescita. e quindi i ragazzi, i bambini, è bello perché poi dopo lavorarci insieme agli attori professionisti, insieme a non attori, si crea risonanza. Come si può dire? Risposto? No, allora, io ho portato, questa mattina però, l'ho scaricato, quattro immagini. non sapevo bene, non ho capito bene quello che dovevo fare oggi, proprio vi dico onestamente, perché da una parte vorrei darvi un benvenuto, è la prima volta anche per me che vengo a scuola con questa forma mutata, e non sapevo se era meglio parlare della mia esperienza, magari se voi volete farmi delle domande mi fa molto piacere, anche se forse non ho la risposta, però, o se parlare in generale di quello che è stato la scuola, se parlare delle scuole, se non parlare di niente, se parlare di una mia pecora, perché vivo con una pecora che non sa di essere una pecora, che crede di essere un cane, e anche quella per esempio poteva essere un approccio, perché ci ho pensato veramente, perché ogni volta che la guardo penso a tutti noi che ci crediamo diversi, e quando vedo questa pecora che guarda con disprezzo le altre pecore, mi si spezza il cuore, perché comunque questo è la base anche di una sterilità, lei non può avere figli perché non accetta di stare con una pecora. Insomma, sempre tenere a mente. Quindi pensavo di portarvi un filmato della pecora, che però non ho portato, in realtà ce l'ho sul cellulare, perché ecco, anche lei per esempio ama molto le automobili, perché chiaramente è la cosa che più si allontana dalla pecora, crede, non sa se essere un cane o un'automobile, e quindi ho dei filmati in cui lei corteggia le automobili, però non l'ho portato. E quindi ho portato quattro immagini, cinque, no, però due si ripetono, perché ho pensato a... ve le faccio vedere. Allora, aspetta, come si fa? Visto? Come si vede? Ecco. Questa, qua, vabbè, questa, aspetta, volevo non far comparire nessun'altra finestra. Questa è un'acqua forte di Dürer che è sulla prospettiva, fa parte di tutto una sequenza di disegni, di acquaforti che lui ha realizzato perché a un certo punto è esplosa questa roba della prospettiva, no? Dice, ah, abbiamo trovato il modo di sfondare la bidimensionalità, insomma. e a me ha sempre molto colpito questa immagine, no? Perché mi sono... è disumana, diciamo. C'è questa donna che è abbandonata, questa rete, questa griglia e il pittore come un bravo scolaro che sta dall'altra parte della griglia e che invece di guardare la donna guarda delle frazioni del corpo della donna per riportarle su sul foglio. Allora mi sono immaginata gli allievi suoi, no? Che dice, ah, che fai? Eh, vado alla scuola di Dürer, ah, che bello, vedrai un sacco di donne nude e invece arrivavano e si trovavano davanti questa rete e questa rete diciamo era la scoperta per rendere più verosimile un'immagine, no? Ci abbiamo trovato un modo di rendere verosimili le immagini però non si può rappresentare con l'occhio, cioè l'occhio non, l'occhio inganna, non, quando provi da solo a rappresentare la prospettiva non ce la fai perché l'occhio fa crescere delle cose e fa diminuire delle altre, non è scientifico e quindi abbiamo inventato questo modo. Che cosa mi colpisce di questa immagine? Vabbè, innanzitutto la rete, cioè un po' c'entra sicuramente con l'andare in una scuola, no? Innanzitutto la rete che come al solito è sempre un doppio valore, no? Da una parte è importante perché ti protegge, perché è una rete di protezione, pensiamo a delle reti che salvano la vita, la rete delle olive, la rete del circo e però può essere una gabbia, no? Quindi bisogna fare attenzione. e poi sempre di tenere in mente che anche la prospettiva per esempio che quando arrivò fu una rivoluzione dell'immagine è solo una delle prospettive possibili, nel senso che quando loro iniziarono a fare questa prospettiva dissero ah vabbè l'arte è stata primitiva, loro poverini, gli egizi non sapevano che cos'era la prospettiva ma come hanno fatto a non accorgersi che non vedi il profile contemporaneamente e l'occhio davanti, hanno giudicato diciamo tutta l'arte precedente come un'arte barbara, un'arte io e dice invece la prospettiva è il modo più verosimile di rappresentare le cose però dobbiamo fare finta che abbiamo un occhio solo ma tanto questo facciamo finta di avere solo un occhio facciamo finta di stare di fronte a una cosa congelata e facciamo finta di essere noi stessi che guardiamo il quadro congelati forse è un po' troppo complicato come discorso non mi ricordo forse voglio arrivare cioè tutti i sé che stanno dentro l'accettazione del fatto che la prospettiva sia verosimile sono delle negazioni della verità non so se se si capisce e che quindi le regole tutte le regole anche che voi imparerete sono degli scongiuri secondo me sono dei degli atti apotropaici che le persone si danno per riuscire a rappresentare a dare un'argine a dare una forma a qualcosa che comunque non si può che sfugge da tutte le parti e quindi adesso andrete incontro a tutta una serie di regole che vi daranno che sono fondamentali ma che sono sempre ma che si possono sempre rompere insomma non so se mi sono spiegata però non mi ricordo forse esattamente perché vi volevo far vedere queste immagini però è un'immagine che mi piace molto e no è un po' riguarda molto cioè un po' mi sono sentita così quando sono venuta a scuola ecco è stata più una cosa la seconda immagine è questa no aspetta questa era la terza la seconda immagine è questa che è un posto che forse voi conoscete che è vicino casa mia e al parco dei mostri di Bomarzo c'è pure la signorina perché in tutte le immagini ho pensato insomma che comunque la signorina attrae sempre questo è il parco dei mostri di Bomarzo non so se conoscete è un parco che sta io abito molto vicino a questo parco dove un anonimo scolpì dei mostri di pietra giganti dentro alle pietre della zona questo è il più famoso diciamo e questo parco non si sa bene perché ha tutta una serie di letture misteriosissime fatto sta che dal 500 fu abbandonato e fino al 1960 credo 57 fu in stato di completo abbandono nel mezzo del bosco quindi si perse anche la sua mappatura originaria cioè quando mia madre era piccola portavano a spaventare le ragazze nel bosco perché tu camminavi e vedevi questi mostri all'improvviso ma non aveva una sua forma a un certo punto tra le varie mostri che ci sono nel parco c'è una costruzione che non c'entra niente che è questa qui che è una casa storta aspetta è vista adesso c'è sempre anche qui la signorina adesso questa casa storta fa parte di questo insieme di mostri allora tu entri vedi paghi un biglietto hanno fatto un recinto diciamo intorno al parco di Bomarzo e all'inizio vedi il primo forse mostro che vedi è Ercole che squarcia il gigante poi vedi tutta una serie di mostri a un certo punto c'è questa casa i bambini si divertono molto perché tu entri dentro e c'è il pavimento storto e poi riesci insomma è una cosa è un parco è una roba di divertimento mentre i mostri per esempio i bambini si divertono più nella casa che a vedere i mostri e io mi sono sempre molto stupita che nel mezzo dei mostri ci fosse una casa mi sono ma chissà perché tutte le varie sculture che sono presenti in questo bosco sono questi mostri e c'è in mezzo questa casa e quindi ho cominciato a cercare a cercare e ho scoperto ma ho capito che in realtà l'ingresso primigenio del parco che venne costruito del parco di Bomarsi era la casa cioè si entrava dalla casa che adesso è messa invece in mezzo alle altre strutture e si vedevano mostri questa cosa c'entra sempre secondo me col mio lavoro probabilmente anche col vostro lavoro cioè non c'è immagine migliore secondo me perché e c'entra anche con la prospettiva e con il verosidile cioè per vedere mostri prima bisogna costruire una casa una casa che sia in tutto e per tutto identica alle case dove si abita ma con un asse storto se cioè è l'ingresso allora ho pensato di farvi vedere questa casa perché secondo me è come si entra nelle cose voi entrate a scuola si entra in una casa che potrebbe essere simile a tante case dove avete già vissuto a tante scuole dove siete stati e se la scuola funziona secondo me sposterà l'asse del pavimento della vostra immagine di scuola questo secondo me riguarda anche le grandi opere almeno quelle che mi piacciono cioè i film o i libri che mi piacciono attuano questo processo dentro di me e infatti mi portano a vedere il mostro il mostro mitologico insomma il mostro così la signorina anche e l'altra se non riuscite a storcere la casa metteteci una signorina e poi l'altra immagine che è questa però aspetta ve le faccio vedere due insieme forse ecco questa è un si vede che è una persona molto in gamba che sta leggendo questo libro guida del soldato in Sicilia questa è la copertina del libro allora questo è un manuale che io ho portato che è stato ripubblicato da Sellerio che è il manuale che veniva dato ai soldati americani per prepararsi allo sbarco e secondo me pure questo c'entra con la scuola Holden nel senso vabbè adesso ve lo consiglio la lettura perché secondo me come sempre quando qualcuno ci descrive da fuori rivela comunque i limiti di entrambi ti rivela i suoi limiti e rivela anche i nostri limiti e questa guida veniva data appunto diciamo che stiamo parlando chiaramente della guerra di liberazione chiamiamola uno dei periodi più dibattuti della storia del nostro paese secondo me voi state entrando in uno di quelli che saranno i periodi più dibattuti della vostra vita ho fatto bene ho fatto male sono fiero me ne vergogno mi hanno sfruttato li ho sfruttati mi hanno aiutato non mi hanno aiutato per niente cioè state sono come appunto la guerra di liberazione è uno dei momenti più dibattuti della storia del nostro paese cioè siamo stati colonizzati ci hanno liberato ma chissà com'è andata veramente ma forse erano in raccordo con la mafia ma forse secondo me quello diciamo il periodo in cui andate incontro assomiglia un po' a questo periodo che però è il momento uno dei momenti fondamentali a cui io che io amo molto nella storia del mio paese questa contraddizione che sta alla base la guida del soldato in Sicilia è che cosa aspettarsi dall'arrivo in Sicilia quello che viene detto nella guida principalmente è che si va incontro a un paese di gente che vive allo stato primitivo malatissimi che tutto quello che loro mangiano e bevono a noi ci ucciderà e quindi non bisogna che se si guardano le donne ci accoltellano e che ci sono un sacco di souvenir carini da riportare in America più o meno questo è quello che viene detto la realtà è comunque cioè quello che poi è accaduto è comunque un altro allora mi fa comunque mi emoziona pensare a questo qui che sta per sbarcare in Sicilia e si legge questa questa guida che crede di conoscere un territorio ma il territorio finché non sbarchi insomma non lo conoscerai mai e quindi questo lavoro che poi spero farete che non so quale saranno perché le possibilità dei vostri lavori sono infiniti è comunque bisogna sbarcare cioè è comunque molto diverso da qualsiasi guida la guida è utile perché mostra sì i difetti di chi l'ha scritta ma mostra anche i difetti di chi sta dall'altra parte secondo me e quindi boh e quindi e così sì bisogna sbarcare e poi bisogna guardare per un dollaro d'onore ogni tre mesi una volta all'anno in realtà adesso io ho detto tutte queste cose che non di poco valore ma l'unica cosa vera è che bisogna guardare un dollaro d'onore una volta all'anno perché lo capirete il dollaro d'onore insegna due cose uno che bisogna salvare gli amici perché di martin è borracion ubriacone fatto è finito bisogna salvarlo l'altro che bisogna far bene il proprio lavoro è john wayne lo sceriffo e lo fa bene il suo lavoro far bene il lavoro alla olden si impara a far bene un lavoro secondo me io volevo sapere da te un'altra cosa ma Nanni Moretti ha detto una volta che quando faceva i primi film lui la notte non dormiva perché non sapeva quando sarebbe arrivato sul set cosa doveva fare dove mettere la macchina la presa come far recitare cosa fargli dire tu hai provato questo questo brivido qua oppure no perché i tuoi film sembrano fatti con una tranquillità diciamo che io ho problemi su tutto il resto cioè io non dormo perché penso a cosa succederà quando finisco di lavorare e quindi è tutta la vita quotidiana che mi perseguita tu vai là e giri vabbè sì ma forse perché per non lo so quello non è un problema per me il problema però tutto il resto è un disastro comunque secondo me è importante avere un disastro crearselo nella vita personale fa bene così dopo sei rilassato per il resto eh lavorando cioè tu alla fine delle riprese hai chilometri e chilometri di pellicola ah no noi riprendiamo molto poco facciamo questo è un dettaglio tecnico però facciamo poche riprese abbiamo perché io lavoro cioè noi lavoriamo in pellicola semplicemente perché per me è stata la scoperta più innovativa che ho fatto nella mia vita e no semplicemente perché per quanto io infatti possa sembrare molto confusa quando mi danno carta bianca come oggi nel momento in cui ho dei limiti eh do il mio meglio ecco e quindi a me aiuta molto sapere che si devono fare un tot di rulli al giorno che non si devono superare 22 minuti di ripresa che che mancano 4 metri alla fine del rullo cioè sono tutte cose che che aiutano secondo me eh questo lavoro avere dei limiti comunque avere delle regole appunto per poterle poi per raggiungere questi limiti per arrivare fino al limite avete domande aiutatemi parlaci allora una cosa tu li scrivi anche i tuoi film infatti fanno acqua da tutte le parti allora no questa è una storia molto interessante perché quando ho iniziato questo lavoro è successo che ho incontrato un produttore Carlo Crestodina che è il produttore con cui lavoro che disse questa cosa dice vorrei che tu scrivessi un film e le parole sono appunto importanti come si dice e io l'ho presa sul service scrivere no siccome mi vergognavo molto di chiedere chi era il regista perché poi pensavo che sembravo quelli che dice no io lavoro solo con certi registi oppure avevo diciamo un proprio un po' mi sembrava appunto poco nobile informarmi su chi sarebbe stato il regista decisi dico va bene scriverò questo film e quindi siccome ero partita per l'idea era di fare un documentario all'inizio sul catechismo in Calabria e poi è diventato questa ricerca è diventato corpo celeste però io vivevo sempre con questa grande ansia diciamo che avrei un giorno conosciuto questo regista e che questo regista quindi anche c'erano delle scene che gli dovevo spiegare come pensavo di farle cioè come pensavo di di cambiarle non lo so e quindi non arrivava mai non arrivava mai poi a un certo punto dice ah bisogna andare al ministero a chiedere i soldi io proprio veramente ero molto ignorante di tutto questo mondo dico sì chi andiamo dice io e te ah non viene il regista e dice no ma il film lo devi fare tu dico io no ma ho detto vabbè poi mi sono tranquillizzata dico non ci daranno mai i soldi perché comunque io non ho mai fatto niente perché comunque alla base di corpo celeste sono completamente matti diciamo la verità cioè ci hanno dato dei soldi io non avevo mai neanche girato un cortometraggio non ero mai stata su un set io al loro posto non le avrei dati cioè comunque quindi poi dopo ci dia dei soldi quindi poi bisognava farlo e e fu una grande avventura perché sempre per questa famosa vergogna diciamo mi vergognavo di chiedere un po' chi doveva fare cosa no e dico vabbè capirò da sola perché sono intelligente e quindi tutti c'è questo scenografo così dobbiamo trovare il direttore della fotografia dobbiamo trovare quindi lì ci arrivavo no così poi quindi si forma la squadra ma è stata su un set proprio il giorno prima delle riprese la sera arriva questa giuria e fa ciao sono la segretaria d'edizione e lì io dico la segretaria d'edizione capisco no perché lei parlava un po' veloce ah dico la segretaria d'edizione no poi guardo su internet non esiste segretaria d'edizione allora ho pensato ma guarda sarà una cosa del fascismo no tipo che ci portiamo dietro che mandano queste persone a controllare che non si dicono le parolacce allora le dico sì ma perché il film era un po' in calabrese e lei era romana e dico ma tu parli il calabrese perché e lei dice no però vabbè e io dico ma perché allora potrebbero dire un sacco di parolacce in calabrese e lei non se ne rende renderebbe conto e quindi niente poi dopo un paio di giorni ho capito che faceva un altro lavoro però mi ricordo la prima scena primo giorno muto quindi niente secondo giorno di riprese dicono qualcosa io proprio la guardavo no e così e così è stata iniziata questa avventura mi ricordo adesso che avrei dovuto dire una cosa la sigla cominciava con ritorno al futuro è in uscita l'ultimo film di Zemeckis che è bellissimo The Wall sull'impresa del collegare le due torri con un filo e l'acrobata francese che passa sul filo io ho avuto occasione di vederlo già è un magnifico film boh senti ma poi che cosa hai scritto cioè tu sei arrivato con una sceneggiatura sul set e poi dopo invece lasci fare quel che viene viene l'impressione io ti dico questa cosa ero là a Cannes quando hai presentato Corpo Celeste e non ero tanto distante da te ho seduto un pochino da parte e per tutto il film di sequenza in sequenza mi dicevo vediamo se vanno bene le cose e la prima sequenza è andata bene la seconda pure la terza pure la quarta pure dalla quinta in poi non ci ho pensato più ho visto il film andava tutto bene il film dall'inizio alla fine cioè com'è che viene fuori un film giusto tu lo senti già sul set che è giusto lo senti quando lo scrivi quando è che sai che le cose funzionano perché è mica semplice saperlo questo tu lo sai meglio di me no io non ho la minima idea però diciamo vabbè prima di tutto ecco per questo perché diciamo prima la regola no è importante conoscere le regole però poi dopo non so se avete già letto Geografia del cinema piuttosto di Bruno credo che il motivo poi per cui questa sceneggiatura sia andata avanti e poi si è trasformata in un film è perché era completamente sbagliata ora sbagliata rispetto a tutta una serie di regole che gioiosamente trasgretiva per esempio era piena di dettagli era piena di cose sentimentali perché ti dicono che devi scrivere solo cose che accadono no invece era proprio tipo un po' così tutta lei si sente così però si sente anche un po' così però forse è felice però anche un po' triste e quindi diciamo che però questo fu un grande aiuto perché i commissari diciamo del ministero che poi leggono le sceneggiature probabilmente leggendo centinaia di sceneggiature invece tutto alza la bottiglietta prende il microfono a un certo punto si trovarono questa cosa completamente ingestibile tutta passionale e quindi però probabilmente era stato importante prima cercare di scrivere in un altro modo e capire che non era quello il modo per me no? ho risposto alla domanda no sul set come no diciamo che proprio dopo noi cerchiamo di fare esattamente quello che è scritto il problema è che quello che è scritto non è molto descrittivo quindi cerchiamo di mettere in scena quello che è scritto che però non è descrittivo e perciò bisogna poi trovargli una descrittività nel momento in cui si prova l'azione però le parole restano le stesse in genere però questo ci sono infiniti metodi quindi non è che c'è un metodo rispetto a questo in genere noi come lavoriamo è cercando di fare accadere delle cose che naturalmente non accadrebbero mai e che però bisogna fare accadere è difficile sì quindi ripeti tanto le scene facciamo le prove spesso uno vorrebbe dire un sacco di segreti tipo noi mettiamo sette uova sopra un cucchiaio e poi facciamo camminiamo cioè invece facciamo semplicemente le prove domani sulle difficoltà usi la pellicola per darti una limitazione o ci sono altri motivi vabbè apri un discorso molto grande non è che non so se chi farà cinema di voi avrà la possibilità di usarla perché è abbastanza difficile e abbastanza controproducente diciamo che parliamo se parliamo di agricoltura quando c'è il controllo assoluto della situazione è sempre prima della catastrofe cioè in genere quando dicono ah boh sono sicuro che adesso avrò un raccolto di 350 mila cose tutto sotto controllo tutto il sistema perfetto per controllare tutto arriva l'uragano allora a me il fatto di avere troppo controllo è sempre una cosa che che proprio come processo di conoscenza non mi piace non mi attrae non sono costretta a fare sto lavoro no? cioè se lo faccio ci deve essere anche qualcosa che conosco facendolo e quindi sicuramente da questo punto di vista il digitale secondo me non aiuta perché è tutto sotto controllo però chiaramente è il mondo del futuro quindi io spero che voi troverete un modo di rendere il digitale che troveremo un modo di rendere anche il digitale sensibile no? però la pellicola c'è sempre un margine cioè è come un rapporto a tre diciamo invece che a due è più difficile però perché ci sei te c'è quello davanti a te e in mezzo c'è lei che fa delle cose e non sai mai quello che scappa fuori insomma non lo sai fino in fondo ecco quindi questo sicuramente è una cosa e poi appunto comunque il cinema che sicuramente è un'arte un lavoro che ha interpretato benissimo il novecento probabilmente non interpreta più il nostro secolo quindi si è sviluppato perché si è sviluppato insieme a una tecnologia che è quella della pellicola cioè cinema infatti vuol dire quella roba lì quindi sicuramente non riesco a trasferirlo cioè credo che il digitale debba far nascere un'altra cosa e poi principalmente quello che credo ma qui avremo un altro un vaso di Pandora che non credo nei benefattori cioè se hanno deciso questo cambio in una maniera così rapida di passare nel giro di tre anni perché quando io ho fatto Corpo Celeste era normale fare un film in pellicola quando ho fatto le meraviglie è stato difficilissimo sono passati tre anni se hanno deciso di fare un cambio così assoluto e così rapido non è perché ci vogliono bene perché pensano che lo fanno per noi cioè lo fanno perché il modo di arricchirsi con il digitale è infinitamente maggiore rispetto a a come ci si può arricchire con la pellicola perché comunque è un processo meccanico e perciò può arricchirti fino a un certo punto cioè a un certo punto c'è un margine no? e quindi a me sta roba mi fa un po' arrabbiare non mi viene una curiosità hai tirato fuori la parola catastrofe per l'agricoltura nelle meraviglie c'è una delle più belle catastrofi degli ultimi anni il miele dappertutto quella è una scena impossibile da girare perché basta versare il miele era miele vero miele vero poi l'abbiamo venduto no no vabbè quella scena il problema era più con le api diciamo gestire le api e le bambine alla fine il miele non è difficile io ho la sensazione soprattutto nelle meraviglie che tu ti metti nei guai quando fai un film certo allora se tu non ti metti nei guai la gente comincia a litigare comincia a parlare male l'uno dell'altro ma di fronte alla catastrofe comunque tutti siamo molto amici e quindi secondo me è fondamentale mettersi davanti a dei grandi problemi per esempio non so per esempio le piccolette erano un problema non so se avete visto il film ci sono queste due bambine molto piccole che erano un problema talmente grande che nessuno si sognava di poi dopo litigare tra di noi eravamo tutti qualizzati contro le piccolette avere diciamo dei grandi problemi sul set è di grande aiuto in generale credo che sia di grande aiuto il conflitto e quindi predisporre un piccolo conflitto in qualche modo poi è anche una cosa un po' non è che proprio così pensata però preparare un piccolo conflitto fuori ce l'aiuta come fa la politica internazionale alla fine io copio da loro copio dai politici infatti inventano sempre dei nemici copio da De Sica quando doveva far piangere il bambino domande? dove? qui? ah lassù va bene ho il microfono anche lì prego col microfono se posso chiederti i passaggi professionali e semi professionali che ti hanno parlato dalla Holden a poi il mondo del cinema grazie io aspetta sto pensando io ho fatto lettere lettere classiche dopo la Holden e quindi diciamo che dopo la Holden ho avuto veramente un periodo che stavo in università a Palazzo Nuovo che tra l'altro è chiuso adesso perché c'è l'amianto quindi forse sono fregata però io speravo che mi pensavo che mi avessi fregato la Holden invece mi ha fregato Palazzo Nuovo che no e e quindi mi sono proprio distaccata ma non perché avevo ero semplicemente ho fatto la Holden molto piccola e mi sembrava importante comunque studiare poi mi sembra anche che è una cosa così bella e che perché iniziare subito a lavorare cioè ecco diciamo principalmente questa è la mia domanda ma se posso studiare e poi però contemporaneamente e quindi diciamo lo studio che era poi contemporaneamente facevo dei piccoli lavori come montatrice di documentari cioè ho montato dei documentari e poi intanto cioè in realtà è stata sempre un'attività parallela su più cose e poi ho iniziato anche sono rimasta molto legata a Gabriele Vascis che sarà probabilmente vostro insegnante per il teatro se non no e quindi ho fatto ho lavorato per degli spettacoli con lui ho lavorato come suo assistente quindi comunque avevo una vita più vite parallele una come montatrice una come poi ho capito che dovevo trovare un lavoro perché ho fatto la scuola molto presto e poi ho avuto una bambina molto presto e quindi lì devo lavorare e perciò ho pensato di fare la montatrice perché mi sembrava un lavoro pratico e lì poi sono stati gli incontri che hanno cambiato tutto nel senso che questo produttore Carlo Crestodina mi incontrò per un piccolo documentario che avevo fatto e mi spronò fece proprio stalker cioè a un certo punto io dico ma perché adesso mi chiamava il giorno la notte stai scrivendo e quindi ho avuto questa fortuna insomma di fare degli incontri credo che forse tuttora questa sia una delle cose più preziose della vita in generale ma anche della scuola cioè che comunque la scuola è stato un concentrato poi di incontri che si sono rivelate col tempo in maniera molto tranquilla ecco cioè forse per me è stato quello che rende questa esperienza molto bella e dolce è che non ho avuto fretta però è vero anche che il mondo sta per finire quindi bisogna avere un po' più fretta adesso io avevo più tempo i tuoi due film hanno una forte componente poetica e io per esempio l'ho visto al festival l'avevo visto a Cannes Le Meraviglie e nel contesto mi sembrava molto forte molto azzeccato però poi ho visto che anche in sala è andato molto bene io volevo chiederti qual è secondo te il limite nel cinema di oggi soprattutto italiano tra vendibilità e commerciabilità qual è il rischio che il tuo film diventi commerciale qual è il limite e comunque resti vendibile per esempio per una buona distribuzione il giorno dopo che ho vinto questo premio mi ha chiamato Ermanno Olmi e mi ha detto qualunque cosa farai in futuro sarà un disastro preparati perché comunque ti vogliono scoprire dopo che ti hanno scoperto non ti vogliono più scoprire quindi questo io posso dare una risposta fino a un certo punto perché è tutto bisogna sempre avere un piano B cioè è tutto veramente sulla sabbia per me quello che è fondamentale è stata una lezione che ho avuto da Carl Baumgartner che è un produttore a cui il film Le Meraviglie è dedicato Baum che è morto purtroppo durante la lavorazione di questo film e che però ha molto voluto questo film e ricordo io sono andata da lui la prima volta con la sceneggiatura di Corpo Celeste e credo di avergli fatto la stessa domanda tipo ma che importerà la gente di tutto questo queste cose proprio e lui mi disse ma tu ti senti così speciale che è un po' quello che io penso quando guardo la pecora per tornare si chiama Lima tra l'altro ma tu ti senti così speciale e dico no perché poi sai qualcuno fa finta sempre di essere umile in realtà siamo tutti dice no no io non mi sento speciale perché ed effettivamente poi da quel momento ho cominciato a stare attenta a questo cioè solo se tu ti senti speciale pensi che devi fare qualcosa per un pubblico che è altro rispetto a te e questo è quando vai alle riunioni nei vari ministeri ti dicono a noi piacerebbe ma al pubblico no e questo è veramente un controsenso perché dice come dire ma chi è sto pubblico scusami io credo che quello che poi mi disse Baomi fai una cosa che piaccia a te e a tu o tre persone a cui va bene non sei tanto speciale uno o due milioni di persone come te nel mondo ci sono l'importante è capire come raggiungerle io volevo chiederle che rapporto ha con sua sorella nel senso che può aver influenzato la sua carriera è stata un'influenza reciproca allora mia sorella voi avete fratelli e sorelle il rapporto che uno ha con fratelli e sorelle è diciamo un rapporto di sorelle chiaramente uno si influenza a vicenda sempre no? allora se la domanda è se lei fosse dentro il settore mi ha aiutato questo ma no le passioni sono proprio cioè non è che non so come dire sono dei percorsi anche lunghi no? non è che tu nel giro di un mese dici ah una passione nuova voglio fare questo lavoro cioè almeno almeno non vale per per me e per noi sicuramente ci siamo influenzate a vicenda cioè nel senso che tutte e due abbiamo scelto di andare verso il mistero perché per noi questo lavoro era proprio anche qualcosa di completamente sconosciuto e e quindi anche però libero perché eravamo molto liberi rispetto a questo questa cosa poi appunto non so abbiamo cioè io avevo iniziato la Holden lei ancora cioè quando abbiamo non so se si può parlare di un prima e di un dopo è tutto molto intrecciato comunque sicuramente avere delle persone vicino care che ti dicono la verità forse questa è una delle cose che è molto importante e quindi a cui dovete tenere perché tanto sono pochi quelli che ti dicono la verità proprio su quello che fai tu nella tua gerla campagnola hai tante storie ancora da raccontare io ma che domande ho adesso hai fatto due film vicini adesso ne stai scrivendo un altro ti viene facile raccontare storie o no relativamente mi piace mi appassiona però non non so se mi viene facile mi vengono più facili altre cose faccio un'altra domanda allora sia in Corpo Celeste che nelle meraviglie ci sarà stato un momento in cui tu dici ecco che ne so la canzoncina di Corpo Celeste mi sintonizzate con Dio oppure il miele oppure le api e da lì poi vai avanti come ho lavorato finora e come sto cercando ancora di lavorare però poi non so se questo sarà cioè appunto non voglio neanche fare dire questo è il metodo è più come cercare di gettare una rete sempre si ritorna questa roba della rete su delle su qualcosa che è molto su una nuvola cioè su una nebulosa su qualcosa che è molto anche lontano cioè delle cose che non sono tutte insieme no? e in qualche modo metterle insieme collegarle avvicinarle e poi è difficile è difficile poi ci sono infinite fughe poi ci stanno tutti i festival che tramano contro i registi e cercano di farli diventare tutti degli alcolizzati ci stanno diciamo che ci stanno veramente è un mondo che cerca in tutti i modi di distrarti e di indebolirti perché comunque c'è un grande godimento diciamo dei critici nello scoprire il regista e poi c'è anche un grande godimento nel distruggerlo e allora per alimentare questa catena infinita loro prima però però diciamo ecco più che per analisi procedo per sintesi ecco scusa cioè scusate sono qua ecco allora torno all'inizio lei all'inizio ha parlato dell'importanza di avere un piano A ed un piano B tra l'altro complimenti per il piano B volevo volevo chiederle se ha se ha qualche consiglio per chi come me penso anche altri in questa sala magari ha solo un sogno e un piano non ce l'ha ancora beh diciamo che il piano B riguarda la necessità che uno ha di mantenersi cioè quindi comunque quello ce lo dobbiamo avere tutti un po' poi c'è magari chi viene aiutato dalla famiglia e chi no sì no no certo scusi intendo intendo nel mio caso specifico per questo spiego la mia domanda io magari ho un sogno effettivamente un piano non ce l'ho non so se lei ce l'avesse alla mia età all'epoca ok la cosa che le chiedo è come ha scoperto il suo percorso in realtà ho capito l'autoconservazione cercare di rimanere se stessi ma come ha capito qual era il suo piano A e in questo caso il suo piano B che effettivamente è stato grandioso sto pensando non ho altre domande non ho qualsiasi risposta ti posso dare sarà deludente non credo di aver mai scoperto cioè è il percorso un po' che scopre te anche non è soltanto tu che scopri un percorso in qualche modo sicuramente ecco c'è quella poesia che si scrive sui diari quando sei alle superiori di di Cavafis penso se non puoi la vita che desideri cerca almeno questo per quanto sta in te non sprecarla in balia del quotidiano luogo balordo degli incontri degli intrighi non sprecarla fino a farne una stucchevole stranea qualcosa del genere cioè questo però cioè non sprecarla nel senso se non puoi la vita che desideri comunque non sprecarla e quindi mantenere un po' un nucleo quello che ho scelto io di fare è che proprio le mie grandi passioni di non usarle per ricavare diciamo troppo però non so se però ognuno poi può scegliere anche invece di usarle non è che e quindi di fare cose anche molto diverse per trovare le energie per alimentare l'altro mondo credo che comunque allargare cioè sia importante perché si crea un circolo no? la dinamo invece che chiudersi soltanto in una possibilità ok la ringrazio non ho risposto non ho risposto di uscire di uscire negli ultimi anni dal mondo del cinema provare a fare qualcos'altro e se sì che cosa cosa ti piacerebbe fare o cosa si potrebbe anche fare sperimentare certo che ci penso ci penso tutto il tempo cosa secondo me bisogna entrare troppo nello specifico cioè però mi rendo conto che il mio lavoro non è molto attuale cioè nonostante la prima domanda sia sempre quella sul presente e su sul presente diciamo non parliamo né di futuro né di passato però soprattutto sul presente però ancora non basta non basta però non lo so diciamo che si può fare questo lavoro perché uno vuole entrare in un mondo oppure perché vuoi scoprire il mondo e se lo vuoi scoprire credo che non ti basta mai no? cioè ti sembra che è sempre insufficiente è comunque un lavoro molto diverso da quello che sembra da fuori cioè per questo ritorno sempre alla griglia della prospettiva cioè uno dice vado a vedere le donne nude e poi si trova davanti quella struttura così fredda e così cioè quindi mantenere la passione per la donna nuda che sta dall'altra parte e capire che quello che tu stai rappresentando non riguarda soltanto la griglia ma riguarda proprio anche l'anima è molto difficile bisogna essere molto concentrati che cosa ti piace di più dei due film che hai fatto la fine la fine in entrambi i film mi piace molto la fine anche è quella che vedo di più perché in genere quando vado a presentare film esco e poi rientro alla fine quindi ci sono più affezionata la fine in entrambi i casi è stato forse il momento in cui mi sono sentita più libera uno finisce che lei arriva sulla spiaggia e ci sono dei ragazzi che hanno costruito quei ragazzi che lei sempre vedeva da lontano che hanno costruito una specie di casa di spazzatura e il ragazzo gli fa vedere la coda della lucertola in corpo celeste la coda della lucertola che ancora si muove la fine delle meraviglie è spariscono tutti diciamo che la fine della meraviglia era il desiderio di fare spazialmente qualcosa che è lo zoom all'indietro cioè a me piacciono tanto quei film che magari che alla fine finisce che poi dopo si alza e vedi tipo tutto arrivi poi a vedere il pianeta e poi uno tra i pianeti cioè che da dalla piccola storia si allontanava no? volevamo fare questo movimento però con dei mezzi diciamo ecco diversi e senza effetti speciali e quindi l'unico modo di farlo era quello di farli sparire tutti in continuità cioè di fare invecchiare di vent'anni all'improvviso il posto senza tagli e perciò è così la fine c'è la famiglia lei si butta nel letto fischia il cammello al terzo fischio si alza e va via ci rigiriamo e sono spariti tutti e la casa è abbandonata quindi c'era tutto mi piacciono molto queste prego ciao quando ho visto il suo film ho pensato finalmente un film che respira che ha un respiro fisiologico appunto un senso di fine però luminoso i suoi film mi hanno sempre molto commossa e mi hanno creato nostalgia io volevo chiederle lei come coltiva la sua luminosa nostalgia io vabbè una volta che ho conosciuto Fornara poi mi manca così tanto che tutta la vita sarò alimentata dalla nostalgia e no vabbè beh io credo sicuramente che i primi nemici delle cose sono il loro non so come è come dire il loro aggettivo non so se si può dire così cioè il più grande nemico del vero è il vero è il verosimile il più grande nemico della poesia è il poetico e quindi ogni volta che qualcuno mi dice che è film poetico io rabbrividisco no nel senso che credo che tutto quello che tende che cerca di tendere in qualche modo verso la poesia si deve distaccare dal poetico no in qualche modo e quindi deve avere molto corpo nel senso che poi dopo per poetico spesso si associa a tutte delle cose che invece non hanno corpo e quindi alla fine penso che sia un lavoro sul corpo se voi veramente a quanto ho capito fate questa preparazione sul corpo qui a scuola mi sembra questa forse è la cosa più importante cioè riuscire a scrivere con il corpo a lavorare con il corpo cioè comunque a vedere l'anima ma a vederla sempre incarnata a certe volte dico delle cose che poi dopo scritte quando le rileggo mi sembra Paolo Coelio però voglio spezzare una lancia a favore di Paolo Coelio comunque per me ogni volta che sono stata veramente male ho sempre pensato che Paolo Coelio è uno scrittore no io ho pensato comunque se lui è uno scrittore anche io ce la posso fare no e quindi secondo me è uno dei miei scrittori preferiti ora c'ho una curiosità io ho lavorato 30 anni a Bergamo a fare Bergamo Film Meeting come mai Bergamo? no ma sto scherzando ah stai scherzando non c'entra no ma è vero che scherzi o no? sì sì quindi è un altro film di campagna no 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 non è di campagna diciamo se tutto va bene perché non lo so è perché poi sempre uno parla dice parla di che cosa comunque è girato in un paese in una contrada con la campagna sì ma non vorrei che la mia domanda fosse troppo specifica tu hai parlato della fase di scrittura dei film e della fase di ripresa non ci hai parlato della terza fase che è il montaggio come ti relazioni col montaggio di un film tu giri solo quello che ti serve giri di più che poi nel montaggio ti lasci un po' di scelta oppure insomma come ti relazioni col montaggio questa domanda allora il montaggio forse è la parte più bella del film sicuramente per me proprio la preparazione nel montaggio perché le riprese sono molto rapide non ti rendi neanche ben conto di quello che sta succedendo io lavoro con un montatore no in genere è molto non abbiamo molte scelte al montaggio perché ci sono poco materiale e più che altro è tutto molto pre come si dice già deciso come dovrebbe essere quindi anzi è un grande problema perché spesso i film sono troppo lunghi bisogna tagliarli sicuramente il montaggio è è una delle scuole più importanti per fare un film molto più cioè non so come è perché non ho mai fatto di andare su un set di un'altra persona vedere come gira o avere tutte le notizie su come uno gira io credo che la vera scuola sia proprio la moviola il montaggio e non a caso io credo proprio che l'invenzione che ha cambiato più di tutto il cinema è stato l'invenzione di Avid cioè il programma di montaggio non è stato il digitale non è stato anche quello però il vero il vero la vera rivoluzione è stato Avid perché comunque ha trasformato tutto ha reso possibile delle cose che prima non erano neanche immaginabili stop alle telefonate mi dicono giusto? no? va bene così Martino? c'è le domande del pubblico immagino ci fermiamo qui? va bene grazie 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 a Fornara che chi non lo conosce lo conoscerà chi non lo conosce bene attenti buona scuola e buon dopo scuola grazie grazie Grazie.